Al centro medico dell'associazione Casa di Salute Verona di Via Bramante è stato allestito un nuovo punto di distribuzione del vaccino antinfluenzale. Per facilitare il servizio che supporta un vaccino di utenza di circa 15.000 persone sono state installate due tende mobili all'esterno, una dell'associazione e l'altra messa a disposizione della protezione civile del comune di Verona. A visionare la nuova installazione oggi il sindaco Federico Sborina insieme al vice comandante della polizia Lorenzo Grella.